Dico la verità, mai mi sarei immaginato, dopo tutto quello che abbiamo passato a marzo, aprile, maggio, di ritornare a fare i miei sermoni raccontando l'impossibilità di spostarsi o di fare una vita normale, comune, come quella che eravamo tornati a fare da maggio in poi. Nessuno poteva immaginare la seconda ondata. Oddio, a dire il vero lo sapevamo tutti, ce l'avevano detto medici sapienti, studiosi, scienziati, ci avevano detto guardate che a ottobre con la coincidenza dell'influenza tornerà la seconda ondata, ci sarà la seconda ondata, ma noi abbiamo fatto finta di niente, maggio è stata tana libera a tutti, sono arrivate le frecce tricolori, tutti felici a fare la movida, nessuno che ha mosso un passo per evitare quello che è accaduto nei mesi estivi e adesso, dopo che è finito settembre, l'uva è fatta e il fico pende, tutti di nuovo a casa. Zone gialle, zone rosse, zone arancioni, chi ce l'ha più di malati, chi ce n'ha di meno, chi sì, chi no, chi la voleva e non l'ha avuta, chi non la voleva e invece l'ha avuta, chi l'ha avuta e non la voleva, insomma voglio dire, ci siamo tornati alla seconda ondata. Ma di questo ne parleremo con calma, perché oramai ne abbiamo di tempo quotidiano da spendere a raccontare sermoni. Intanto c'è una notarella piccola e carina, una letterina scritta da un bambino di Cesano Maderno al nostro premier, Giuseppe Conte. Bambino a 5 anni, ovviamente il concetto è del bambino, ma la lettera l'hanno scritta o la mamma o il babbo, sia chiaro, perché a 5 anni scrivere una lettera come quella che ha scritto al computer bisognerebbe subito farlo ministro sicuro dell'istruzione. Però non voglio pensare a queste cose, più che altro in questa letterina viene esaltato il pensiero del Natale, del babbo Natale, che deve portare i regali a tutti i bambini, ma che se c'è il lockdown, se c'è la restrizione, se c'è la zona rossa, come farà, si chiede questo bambino di 5 anni al premier Conte, come farà babbo Natale a portare i regali, come si potrà spostare tra una parte e l'altra se c'è il divieto di farlo tra zona gialla, zona rossa, zona arancione, se tutti devono stare a casa, se alle 22 c'è il coprifuoco. E' una lettera che bene o male potrebbero aver scritto tutti i bambini d'Italia, l'ha scritta questo bambino di 5 anni di Cesano Maderno. E lo straordinario non è che il bambino scriva la lettera o che il genitore per lui scriva la lettera, lo straordinario è che il premier risponda a quella lettera. Mio padre diceva che ce ne ho talmente tanti di problemi da poterli appiccare anche fuori di casa. Noi in questo momento ce ne abbiamo talmente tanti di problemi e di dolori che ne potremmo appiccare a quintali fuori di casa fin giù alla vigna. però il premier trova il tempo di rispondere a questo bambino e pubblicizzare la lettera che è arrivata attraverso i social, attraverso quello che è Facebook, Twitter, tutto quello che il suo consigliere Casalino riesce a suggerire. Guarda che colpo Giuseppe ci scrive questa lettera il bambinello di Cesano Maderno e che facciamo? Noi non la sfruttiamo sta lettera per dire stai sicuro e stai tranquillo che Babbo Natale passa etc. La tristezza infinita di dover leggere di queste cose in tempi bui, oscuri più che quelli medievali. Siamo in ginocchio, siamo alla frutta, dovremmo studiare mille pensieri per risolvere la crisi e invece rispondiamo e ci facciamo pubblicità con la lettera. Nonostante tutto, la mia più cordiale buona serata. Grazie. 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 Grazie.